e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e torniamo sempre con la car review perché ragazzi sono uscite tantissime carte neutrali e poi mi ero dimenticato effettivamente di analizzare un'altra carta che è davvero molto molto forte ha un sacco di potenziale e quindi l'andremo a vedere ma partiamo appunto dalle neutrali e partiamo appunto da quelle comuni abbiamo un treasure distributor che è un pirata 1 mano 1 2 dopo che hai evocato un pirata dai più 1 attacco che dire una carta che può essere di stampo aggressivo le statistiche non sono completamente brutte una carta che probabilmente in un pirate rogue o in un pirate warrior potresti anche voler avere quindi tutto sommato secondo me come carta non è male gli si può dare tre stelle a una di quelle carte utili soprattutto per appunto andare con le combo le sinergie ai pirati al di fuori di un mazzo pirata che comunque dubito che possa esistere ma magari riusciranno a trovare un qualcosa di interessante per farci giocare un pirate rogue o un pirate warrior ecco che non vedrà gioco al di fuori i pirati ecco invece negli altri mazzi potrebbe sì vedere gioco essere anche comunque molto forte tre stelle per questo motivo andiamo avanti con il sing along buddy 2 mana 1 4 il tuo hero power si attiva due volte quando può essere forte questa carta beh ci sono delle carte che potrebbero renderla molto forte no pensiamo ad esempio al al guida di scuola no 1 mana 1 1 che ti permette di avere un hero power a 0 ecco che voi capite che ad esempio andate a giocare l'1 mano 1 1 andate a giocare questo 1 4 magari potete andare a fare 4 danni all'avversario se giocate hunter potete andare a evocare il doppia pedina se avete buffato in qualche modo anche il vostro hero power ecco che potete fare ancora robe più sbagliate purtroppo con gli anni l'hero power è diventato sempre meno influente nei fatti non so nemmeno che in alcune classi come funzioni bene ad esempio il rogue cos'è che va a fare va a fare attiva due volte la dagger immagino di sì quindi è inutile completamente il rogue è un mech quindi vantaggioso il problema è che attualmente i mech lì si giocano in due deck che sono il mech mage e il mech paladin e nessuno dei due mazzi vuole andare a spendere comunque del mana no per andare a fare l'hero power preferisce giocare dei robot proprio per questo motivo la carta non mi convince non è che non abbia potenziale però appunto non mi fa impazzire per questa motivazione io penso che non gli riesca a dare più di due stelle e mezzo carta che non è bruttissima ma che secondo me farà fatica a vedere gioco andiamo avanti con la tremana 2 e 4 naga card grider battle cry quindi grido di battaglia se hai lanciato una spell mentre avevi questa in mano rinvieni una carta dal tuo deck cosa possiamo dire questa carta è una carta che sembrerebbe utile credo più in arena che in standard difficilmente tu vuoi andare a prendere carte dal tuo mazzo è un card draw un pochino più mirato però le statistiche non è che facciano intendere di voler questo card draw a tremana no che poi va bene tu lo discoveri è buono però insomma non mi piace particolarmente si potrebbe andare a giocare perché una carta ti ha generato una naga allora te la trovi potrebbe risultare anche forti in alcuni spot però all'interno di una lista 30 carte tu questa carta secondo me non la vai a mettere mai due stelle proprio per questa motivazione andiamo avanti con il rumble enthusiast tremana 2 e 5 questo ragazzo entusiasta di warcraft rumble dopo che hai giocato la carta a sinistra o più a destra della tua mano fai un danno a un nemico casuale beh conoscevamo una carta che faceva un effetto simile ma molto più forte era kurtrus no con 4 mana 4 2 che faceva un danno a tutti i nemici non semplicemente un danno a un nemico c'è una grande differenza ovviamente kurtrus ti permetteva di fare di quelle giocate incredibili ecco che questa carta invece è davvero pessima le statistiche sono anche ok ti potrebbe addirittura sopravvivere però intendo carta ma forse nemmeno d'arena una stella per questa 2 e 5 non vedrà mai gioco andiamo avanti con nostalgic initiatet 3 mana 2 e 3 miniaturizza quindi otterrete una 1 mana 1 1 con il suo stesso effetto la prima volta che giochi una spell ottiene più 2 e più 2 quindi praticamente voi andate a mettere questo 3 mana andate a giocare una spell ottenete l'1 1 diventa un 3 mana 4 5 ovviamente con la condizione che avete giocato a spell e poi potete rifare la stessa roba con l'1 1 che diventerà un 3 3 se andrete a rigiocare un'altra spell sono tante statistiche però l'effetto non mi fa impazzire nemmeno con geppetto mi fa impazzire questa carta non è bruttissima però di statistiche su airstone non credo che si riesca più a vincere o almeno non si riesce a vincere con queste carte qui 2 stelle per questo nostalgic andiamo avanti con la Claremance Promoter 3 mana 3 e 2 Ranto di morte riduce il costo di 2 magie nella tua mano di 1 allora Ranto di morte può essere silenziata gli possono succedere davvero tante cose a questa carta comune no? che dire ridurre il costo non è male ovviamente le statistiche non sono nemmeno malissimo ha un trade attacco quindi magari un trade te lo riesce pure a fare però anche qui il power level ovviamente davvero troppo più basso rispetto alle carte che ci sono in standard d'ora fare un 3 mana 3 e 2 che ti va a scontare due carte poi semplicemente di 1 io non credo che basti e avanzi andiamo avanti con il Jiglaging Toymaker 4 mana 2 e 1 Ranto di morte aggiungi 2 e 1 e 2 mech con Taunt e Divine Shield quindi è una carta che vuole insomma proteggervi un bel po' le statistiche sono davvero bruttine 4 mana 2 e 1 è vero che poi ti mette doppio 1 e 2 quindi diventerebbe praticamente una 4 mana 4 o 5 con doppio scudo di vino insomma è un po' una matrioska sta carta però il power level anche qui io direi troppo basso per le carte che circolano l'ora ovviamente ci sarà una rotazione però appunto difficilmente vedo giocabile questa carta Ranto di morte vuol dire che magari può essere attivato due volte può essere fastidiosa sì però insomma vede un po' tutto troppo macchinoso sinceramente andiamo avanti con l'origami frog una 5 mana 1-4 rush battle cry swap attacco with another minion quindi scambia l'attacco con un altro servitore può essere ovviamente un tuo servitore può essere un servitore nemico anche qua questa rana non è malissimo però intendo per la standard non basta in arena questa roba è molto forte in standard invece davvero troppo brutta proprio per questo motivo non gli riesco a dare più di 2 stelle 5 mana sono davvero troppi andiamo avanti con un'altra 5 mana questo è il forgotten animotron aminotron scusate che poi ha una artwork da bestia non sembra manco un mech però va bene alla fine del tuo turno distrugge un servitore con meno attacco di questo allora c'è da notare una cosa no? dice un servitore nemmeno un tuo cioè un servitore nemico quindi potrebbe essere tranquillamente un servitore addirittura tuo non puoi nemmeno scegliere tale target single target removal che potrebbe far peggio che meglio a 5 mana non ci siamo 2 stelle anche qua forse in arena in arena ecco sta roba potrebbe essere molto molto forte però in standard in giocabile andiamo avanti con un 3 mana 2 4 floppy hydra una bestia con ranti morte metti una copia di questo nel tuo mazzo con statistiche per per sempre insomma permanentemente raddoppiate quindi praticamente vi muore diventa un 4-8 vi rimuore diventa un 8-16 vi rimuore diventa un 16-32 e così via ne stampano tante di queste carte non hanno mai trovato gioco c'è uno del prete che morendo diventa va rimessa nel mazzo ed è un 3-3-3 possiamo dire sempre le solite cose sono antifatigue sono carte ok ecco magari in un lock appunto in cui tu ti vuoi andare a distruggere il mazzo che abbiamo visto ieri a spella 8 ecco magari questa carta può essere utile in quanto ti muore ti ritorna in mazzo e quindi hai appunto un antifatigue per eccellenza detto questo la carta non ha rush non ha c'è non ha niente ha solo ranto di morte non ha meno taunt quindi l'avversario te la può anche tranquillamente ignorare credo praticamente per tutta quanta la partita e questo è un problema per ovvi motivi puoi andarla a tutorare in quanto è una bestia quindi insomma ci sono vari modi in particolare hunter ce l'ha ma c'è anche una carta neutrale che ti dice che puoi pescare una bestia il che non è malissimo in quanto tu la vuoi tutorare il più possibile te la puoi sdoppiare facilmente sta roba però appunto non lo so non mi fa impazzire niente di questa 2.4 e quindi anche qua gli do 3 stelle perché è leggermente più forte e ha la tag bestia quindi la tag bestia potrebbe aiutare a far funzionare la roba ma al di fuori di questo non mi fa impazzire andiamo avanti invece con la nostalgic gnome 4 mana 4 4 miniaturizza con assalto tra l'altro dopo che questo servitore ha fatto un danno esattamente da uccidere l'avversario o comunque un servitore nemico pesca una carta anche qua un cardro interessante è difficile magari fare un value trade esattamente a 4 più semplice farlo probabilmente a 1 il problema è che ovviamente è un pochino lenta come carta non mi fa impazzire incredibilmente e proprio anche in questo motivo anche qua ti direi il power level a me sembra bassino per questa gnoma e appunto anche qua 2 stelle 2 stelle e mezza è leggermente migliore di alcune carte che abbiamo visto prima andiamo avanti con un 4 mana 4 1 origami crane comunque questi origami a me fanno impazzire sono bellissimi provocazione grillo battaglia scambia la salute con un altro servitore anche qui un effetto simile a quello visto prima carta tanto d'arena sta roba non me la vedo in standard sinceramente troppo lenta poco impattante non può vedere il gioco proprio per questo motivo non gli riesco a dare più di 2 stelle nostalgic clown invece ha un 5 mana 6 5 con miniaturizza grillo battaglia se hai giocato una carta con un costo più elevato mentre avevi questa in mano fai 4 danni ovviamente è più difficile fare 4 danni con questa 5 mana sarà molto più semplice farlo con l'1 mana che ti arriva con miniaturizza ora tu vuoi avere un 5 mana 6 5 che fa 4 danni e ti da un 1 mana 1 1 che ti fa ulteriori 4 danni non è malissimo come carta sono quantità di danni importanti soprattutto per l'1 1 che magari potrebbe essere anche duplicato si potrebbe fare delle sorti di otk magari anche con bran in quanto è un grillo battaglia quindi potrebbero iniziare a uscire tanti danni con geppetto se ti sdoppi in qualche modo gli 1 1 proprio per questo motivo la carta ha comunque del potenziale non mi fa impazzire completamente perché comunque a me sembra molto lento una 5 mana 5 6 che non fa niente è davvero lentissima cioè se ti va bene ti fa 4 danni ma insomma non fa praticamente niente proprio per questi motivi non gli riesco a dare comunque un grande voto più di 3 stelle io non andrei mai quindi andiamo avanti con la terza ultima carta che vediamo oggi che è il playhouse giant 20 mana 8 8 torna quindi un gigante un gigante tra l'altro robot costa 1 e meno per ogni carta che hai pescato in questo in questa partita che dire ci sono tanti modi per andare a pescare oggi su Erson c'è la 3 4 che ti scambia la mano ti rimette le mazze e ti fa pescare altrettante carte sappiamo il demon hunter quanto può pescare sappiamo insomma quanto ormai il card draw non sia diventato un grosso problema questi robot questi giganti potremmo dire si sono sempre quasi giocati no ora è un mech difficilmente il mech riesce a pescare un grande numero di carte c'è da tenere questo in considerazione c'è da tenere in considerazione che può essere rievocato da ovviamente da dottor boom the warrior però io dubito che warrior riesca a pescare così tanto e a cittarlo in mana non lo so 20 mana mi sembrano davvero tanti 20 carte da pescare sono tantine anche se comunque giochi doppia 3 4 in qualche maniera proprio per questo motivo anche se i giganti sono sempre giocati nella storia di aerson questo gigante a me sembra un pochino deboluccio ad esempio pensiamo alla naga 20 mana 8 8 ecco quella è molto semplice da attivare rispetto andare a pescare 20 carte no usare 20 mana di di spell e proprio per questo motivo non mi sento di gli posso andare alla sufficienza perché in verità essendo un gigante potrebbe sempre vedere gioco però io sono abbastanza dubbioso gli diamo 3 stelle proprio perché queste carte storicamente trovano gioco però secondo me questo potrebbe essere uno dei primi giganti che non vedrà gioco su hs e andiamo avanti con la penultima carta di oggi che tra l'altro è una leggendaria lina shop manager 6 mana 3 3 ogni volta che giochi una magia riempi la board con servitori di quel costo ragazzi questa carta è interessante no? molto interessante wow quanto è forte sta carta pensiamo riusciamo a giocare questa carta andate a giocare una spell da 3 vi riempie comunque la board con tanti tanti servitori vi dovesse rimanere viva non vi rimarrà mai viva sempre però in alcuni casi potrebbe ecco che andate a giocare una spell da 6 vi evoca una board piena di 6-6 è molto forte secondo me come carta il punto bisogna capire è come riuscire a scontarla no? perché il turno migliore sarebbe quella di evocarla dal mazzo o evocarla dalla mano o evocarla a 0 e poi giocare una spell grossa che mazzo me la potrei vedere? beh forse in big paladin potrebbe essere un'ottima carta no? ad esempio pensiamo il 3-3 che swappa con la mano pensiamo oddio non credo che ruoti lui forse ruota è la 4-4 con rush che ti evoca un pezzo del campo e così via che dire quindi carta che secondo me ha del potenziale molto forte in alcuni deck potrebbe diventare e quindi secondo me comunque un 4 stelle lo trova secondo me in qualche deck la riusciamo a giocare questa roba potremmo addirittura pensare a un deck fatto solamente per lei in diverse classi secondo me può diventare davvero molto forte in druido in paladino in shaman insomma tutti quei mazzi che vogliono essere big o comunque che hanno dei grandi spell da cui poter fare porcate e possono citare insomma questa 3-3 carta che quindi possiamo tranquillamente approvare 4 stelle piena per linea andiamo avanti con l'ultima carta che è una carta che non avevo ancora analizzato stiamo parlando del nuovo king crash che in verità è un king flash qua un 9-mana 6-6 con carica ragazzi e carica è molto importante no grillo battaglia fai tornare tutti i servitori con meno attacco di questo nella mano dei loro proprietari una carta che insomma può essere molto interessante no abbiamo come detto una carta che ci permette di andare a pescare bestie ce la va pure a scontare di 3 se mi ricordo bene che ruba bestiami mi pare di essere una 5-mana 3-4 ecco che voi capite che quella carta lì se voi giocate solamente questo king flash nel mazzo a turno dopo andate a mettere un 6-6 che vi fa tornare tutte le carte nella vostra nella vostra mano ma soprattutto vi fa tornare anche tutte le carte avversario hunter ha diversi modi per andarsi a buffare i servitori pensiamo alla spell che dà più un attacco pensiamo comunque ai vari buff che gli si possono dare una volta che in campo buff generici con altre carte insomma ci sono davvero diversi modi per hunter per potenziare questa carta non dico l'infinito ma di davvero tantissimo e per questo motivo secondo me king flash è davvero un'ottima carta io non mi vorrei sbilanciare a dargli 5 stella sta roba però io sono quasi convinto che questo questo servitore troverà gioco secondo me poi gli daranno ulteriore supporto quindi non do 5 stelle perché 5 stelle vuol dire safe craft e questa roba non è attualmente a safe craft ma 4 stelle e mezzo piene gliele do secondo me è una carta che non solo vedrà il gioco ma sarà sicuramente molto molto forte e potrebbe essere addirittura in uno dei migliori mazze del meta quindi speriamo di andare a vedere perché alla fine hunter è il mio deck preferito le statische comunque non sono eccezionali se l'attacco è buono appunto però serve ancora più supporto per andarsi a prendere ragazzi io direi che è davvero tutto per oggi fatemi sapere con un commento con un mi piace soprattutto se vi piacciono queste carte cosa ne pensate vi leggo ovviamente tutti e vi rispondo quindi niente noi ci vediamo domani con un nuovo video probabilmente domani video guida su un deck molto interessante quindi rimanete sempre sintonizzati e soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto in modo da non perdervi nessun video e niente io vado ciao 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 ciao